In questa puntata, piano di tutela delle acque, il dibattito in aula e gli atti collegati. All'oggi ERP, il Consiglio respinge una proposta di legge della Lega. Presentato il Carnevale Medievale di San Casciano. Informativa della Giunta al Consiglio regionale. Sul PTA, piano di tutela delle acque della Toscana, l'assessora Monia Monni ha evidenziato gli elementi fondamentali, innanzitutto riferimenti normativi. Il documento ha spiegato che coinvolge diversi settori, quali la tutela delle acque, il settore idrologico e geologico, quello sulla tutela della natura e del mare, della forestazione e dell'agroambiente, e infine il settore delle bonifiche. Informativa molto importante che dà sostanzialmente l'avvio al percorso anche all'interno del Consiglio, poi della Commissione. Si tratta di un provvedimento atteso, importante, che dimostra anche la grande attenzione che l'amministrazione regionale, come del resto così tutte e tutti noi pone, e dobbiamo porre al tema strategico di preservare la risorsa acqua. È stata un'informativa articolata, molto dettagliata, ci sono tantissimi aspetti che anche nel dibattito sono stati ripresi, e questo credo sia molto importante e significativo. C'è stato un confronto sul merito già nella fase della discussione di questa informativa, poi c'è stato anche il momento delle analisi rispetto agli atti presentati dai vari gruppi. Si tratta, come detto, dell'avvio di un percorso che tra l'altro, come è stato evidenziato anche in numerosi interventi, si vedrà la partecipazione di tanti soggetti e poi abbiamo evidenziato l'importanza anche di un percorso di partecipazione che si rivolgano anche alla cittadinanza. L'informativa dell'assessore Moni è un'informativa generale, che però non individua correttamente il rapporto fra il piano di tutela delle acque e il piano di gestione, che è l'atto sovraordinato che è di competenza dell'autorità di distretto. Di fatto, quest'ultimo, il piano di gestione è operativo, va di sei anni in sei anni, siamo già alla fine del secondo sessegno. In realtà la Regione Toscana dal 2005 non ha aggiornato il proprio piano di tutela delle acque. I risultati purtroppo si vedono, ci sono circa il 5% delle acque superficiali in condizioni molto critiche, il 22% di acque superficiali in condizioni assolutamente non sufficienti e altre in condizioni scarse. Quindi è evidente che occorre intervenire sulla qualità dell'acqua, laddove ci sono scarichi impropri e soprattutto recuperando tutta la gran parte di acqua e va dispersa all'interno di acquedotti ancora in larga parte con la brodo. Il PD si è fermato sull'operazione della multiutility che richiederebbe la quotazione in borsa e quindi la raccolta di grande patrimonio, di grandi investimenti per realizzare queste opere e dopo 20 anni la Toscana si ritrova ancora in una situazione molto deficitare. Serve un cambio di paradigma completo, così come ci è stato anche suggerito da vari enti e istituti che lavorano a quelli che sono i modelli pluviometrici e quelli che lavorano in tutti i campi che riguardano la risorsa acqua nel suo insieme. C'è da dire una cosa, che le perdite che derivano dagli acquedotti in alcune città specialmente ancora oggi sono enormi. Le risorse idriche così come esistono adesso e come sono adesso non sono migliorate se non in pochi casi, mentre altre hanno avuto netti peggioramenti anche da nuove sostanze che in Veneto, lo ricordiamo, stanno facendo danni enormi e sono estremamente pericolose. C'è una riflessione che è ancora in corso sul fatto della pubblicizzazione dell'acqua. C'è il cuneo salino che è una grande risorsa per tutto il nostro ecosistema delle dune marino. In tutto questo la Regione in questi anni, bisogna dire, che non si è attivata molto. Quindi questa informativa preliminare è sicuramente confortante dal punto di vista che perlomeno la Regione mette un'attenzione sopra, ma ci sono tanti aspetti che invece quando si arriverà poi alla stesura del piano dovranno essere considerati. Non ultimi le risorse delle sorgenti minerali e termali che dovranno essere, con un atto che è stato votato e approvato all'unanimità, ricompresi all'interno del piano, perché fanno parte integrante del sistema. L'acqua è la risorsa, a nostro avviso, più importante della quale dobbiamo avere tutela. Dobbiamo lavorare per fare in modo che anche la Toscana abbia un piano di tutela delle acque molto moderno. Su questo abbiamo portato in discussione due proposte. Da una parte la creazione di un maggior numero di invasi possibile, sia pubblici che privati. Una singola impresa agricola può essere titolare di un invaso privato, a servizio di se stesse e non solo, anche sulla questione degli incendi, ma sull'approvvigionamento idrico e non solo, e sull'irrigazione. La stessa cosa deve fare il pubblico con i grandi invasi che mettono in sicurezza idraulica i territori, ma che diventano anche delle grandi elementi di riserva. E poi grandi progetti di installazione. È un tema di grande attualità, bisogna affrontarlo anche in Toscana. È un meccanismo che può favorire i processi di economia circolare. Come tali noi ci portiamo avanti nella nostra risoluzione collegata, chiedendo dei percorsi che possano alleggerire le questioni di carattere burocratico, urbanistico e di opera pubblica, e il pubblico si faccia trovare pronto dentro un progetto. L'Europa sta andando avanti velocemente in questa direzione, l'Italia è fin troppo ferma. La Toscana, a mio avviso, può essere una regione all'avanguardia, soprattutto dentro anche il recupero dei processi che questi fenomeni di installazione possono procurare, dando anche risorsa non soltanto idrica, ma anche di materiale da utilizzare nell'economia. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza una proposta di legge ed iniziativa del gruppo consigliare della Lega, primo firmatario il consigliere Giovanni Galli, per modificare la legge regionale 5 del 2014 sull'alienazione degli immobili ERP di edilizia residenziale pubblica, finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio. È una proposta di legge che pensavamo fosse di buon senso, nel senso dare l'opportunità agli inquilini, a coloro che in questo momento vivono nelle case popolari, la possibilità di poter riscattare, di poter dare un messaggio di emancipazione a queste famiglie che da tanti anni vivono all'interno di questo appartamento dove loro hanno costruito la loro famiglia, dove sono costruiti i loro figli. Sono tutti appartamenti, tengo a precisare, che sono stati realizzati negli anni 70, 80, 90 all'incirca, hanno tutti bisogno di essere rimessi a posto, di essere ristrutturati, ma soprattutto di essere messi a norma e questa era una possibilità per queste famiglie di poter riscattare e mettere a disposizione appunto dei comuni somme necessarie per poterne realizzare di nuovi. Le case ERP mancano e quindi è veramente incredibile che le si vogliano vendere avendone ancora di meno. Probabilmente per coprire la latitanza del governo anche su questo settore, perché non ha messo niente per la realizzazione di nuovi alloggi ERP, non ha messo niente per il contributo affitti, non ha messo niente per quanto riguarda la morosità incolpevole, allora forse anche con buona volontà si vorrebbe trovare la soluzione vendendo una parte del patrimonio per intervenire sugli alloggi di risulta prima di essere riconsegnati. In realtà dei 4.800 alloggi che sono da ristrutturare, il 60% hanno già il finanziamento, per il resto occorre trovare le risorse, ristrutturarli e darli alle famiglie che sono in graduatoria e giustamente attendono una casa perché ne hanno bisogno. Ora il patrimonio ERP in Toscana che in questo momento non è ad uso è di circa 4.900 unità. c'è però la possibilità di poterle ristrutturare. Porto un esempio, i 9 milioni di euro che atterreranno sul Comune di Firenze faranno sì che 1.500 appartamenti vengano recuperati e rimessi sul mercato ERP. Sono assolutamente contrari e siamo assolutamente contrari alla vendita degli appartamenti. Ora, non che questo non sia accaduto durante il corso degli anni, sarebbe anche possibile a mio avviso vendere quegli appartamenti che oggi si trovano all'interno di immobili, di grandi immobili che sono per la grande maggioranza fatti da appartamenti privati in modo da evitare quello che viene chiamato comunemente il nido di Vespa e cercare invece di raggruppare per avere la gestione migliore ed ottimale. Bisogna a mio avviso smettere di dire come è capitato anche oggi in Sala del Consiglio che questi appartamenti possono essere venduti a 40-50 mila euro. Non è assolutamente vero, possono essere venduti al prezzo minimo di mercato perché se no due minuti dopo arriva la Corte dei Conti e se una persona è in condizione di poter acquistare un appartamento a un prezzo di mercato lo può fare tranquillamente fuori da quelli che sono gli appartamenti Elpe. Se noi tutti quei soldi che utilizzeremo dalle alienazioni meno ingessate, questa possibilità di alienare le case meno ingessate, le reinvestiamo nella ristrutturazione di quelle esistenti, nell'acquisto di quelle che potremmo mettere in commercio, avremo innanzitutto un patrimonio più produttivo in quanto sono tutte case che datano ormai 50 anni di vita, case che magari sono sorte nel mezzo di condomini misti, cioè dove non è tutto uno stabile di case di edilizia popolare, ecco che con questa proposta di legge forse qualche cosa smuoveremo. Ma come sempre questa politica è una politica dove cerchiamo di cambiare tutto, si dice a parole, per non cambiare niente in pratica. La proposta di Fratelli d'Italia e la proposta che oggi abbiamo discusso in commissione del collega Galli prevede un altro modo per recuperare risorse, ovvero quello di incentivare il riscatto agli alloggi popolari. Noi abbiamo votato convintamente la legge Galli in commissione, abbiamo votato convintamente la legge Galli oggi in consiglio, sosterremo la mia legge che arriverà fra 15 giorni, dove l'obiettivo è il medesimo, agevolare il riscatto. Ora, anche su questo, non è che la Lega o Fratelli d'Italia vogliono introdurre il meccanismo del riscatto rispetto alle alloggi popolari, il meccanismo del riscatto è già previsto. C'è un piano di allenazione di alloggi ERP che arriverà fra qualche settimana in consiglio che prevede circa 4770 alloggi in quel piano delle nazioni. Noi chiediamo di selezionare quegli alloggi tenendo conto delle esigenze di chi ci sta dentro, di colui che si chiama a riscattare, per poter, lo dico chiaramente, fare cassa. Perché se noi recuperassimo, mettessimo, riuscissimo veramente, come parla la mia proposta di legge, a far riscattare 5.000 alloggi popolari, il 10%, significherebbe incassare 200 milioni di euro, perché il costo del riscatto medio è sui 40-50 mila euro, stiamo pur bassi, significa riscattare, significa recuperare 200 milioni di euro, 100 milioni servono per recuperare tutti i 5.000 alloggi adesso sfitti e gli altri 100 milioni servono per fare lavori di manutenzione sull'edilizia residenziale pubblica che molto spesso si trova in situazioni fatiscenti o per costruirne di nuovi. Si svolgerà domenica 7 aprile la dodicesima edizione del Carnevale Medievale di San Casciano, con un programma ancora più ricco e nutrito di eventi e attrazioni, 800 i figuranti pronti a sfilare. È diventata una tradizione, è diventata anche un'attrazione per una terra molto bella, che devo dire in materia di politiche culturali, di valorizzazione del territorio, esprime sempre davvero un grande valore. Quindi è un motivo di orgoglio per il Consiglio regionale oggi ospitare questa presentazione della dodicesima edizione appunto del Carnevale Medievale a San Casciano, che mi pare sia anche una bellissima occasione di partecipazione corale di una comunità. Quindi un evento importante con un'organizzazione forte, ma anche molto sentito dai cittadini, da coloro che prendono parte attivamente a questa manifestazione e che hanno reso probabilmente questo appuntamento un appuntamento irrinunciabile della vita sociale appunto di un territorio e di una comunità. Per noi è una grande soddisfazione vedere questa dodicesima sfilata, questa dodicesima edizione, che si preannuncia con ancora più sfilanti, oltre 800, creando così il più grande Carnevale Medievale d'Italia, con un grande livello artistico, sia di preparazione dal punto di vista teatrale, sia dal punto di vista coreografico e scenografico. Le cinque Contrade, Giglio, Cavallo, Gallo, Leone e Torre, si sfideranno a suon di teatro di strada e anche con dei costumi e degli allestimenti veramente straordinari. Sono mesi che le Contrade si stanno preparando per portare in esibizione delle vere e proprie opere teatrali. Hanno messo a lavoro tantissimi contradaiori di tutta l'età di tutto il paese con la costruzione di carri, con la costruzione di vestiti e di scenografia. Stiamo inoltre allestendo tutto il paese con molte attività. Quest'anno abbiamo arricchito molto il programma delle attività proprio nel Centro Storico di San Casciano. Quindi oltre alle esibizioni ci saranno molti artisti che svolgeranno esibizioni e attività didattiche anche per i bambini. Iscriviti al nostro canale